buonasera a tutti siamo qui con luigi cortone dopo la bella vittoria dell'eura la seconda giornata contro la tribette per 3 a 0 luigi all'inizio gli spazi erano pochi poi siete venuti fuori con la vostra qualità e l'avete messa in ghiaccio assolutamente sì è stata una grandissima partita giocata tatticamente perfetta dalla nostra squadra preparata altrettanto perfettamente dal nostro mister e in cinque minuti prima della partita per l'appunto ci ha detto come disporci e poi noi ci mettiamo sempre il nostro massimo è vero che è molto presto siamo la seconda giornata però un pareggio contro la minaccia principale alba roma la prima adesso questa vittoria convincente si può strizzare l'occhio ai playoff secondo te è presto siamo alla seconda partita insomma si pensa gara per gara poi ovviamente si scende sempre in campo per vincere ovviamente come obiettivo i playoff ci sono però come ho detto all'inizio si pensa gara per gara